Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il Cov4 è un mega reparto degli ospedali riuniti di Ancona, diretto dal professor Michele Lucchetti, che per forza di cose deve essere governato con polso fermo. Qui ci sono i pazienti con sintomi che non sono in condizioni di essere sottoposti a ventilazione assistita. In questo momento è un reparto che sta assumendo la funzione di reparto tampone di tutte le situazioni, sia dell'ospedale che della fase post-acuta, acutissima, o anche abbiamo pazienti acuti. Perché? Perché questo è l'ospedale regionale. Quindi ci stiamo occupando di ricoverare tutti quei pazienti che hanno avuto una fase di malattia magari molto grave, entrano nel nostro reparto, proseguono la terapia e la convalescenza e quindi vengono dimessi. Cov4 è un reparto H24 con un numero di pazienti stabili intorno ai 32-36, dove la continuità assistenziale e gestionale reale è garantita dalla responsabile, dagli strutturati medici e da specializzanti in medicina interna e urgenze mediche. È un reparto che in questo momento ha 36 posti letto, ma può arrivare anche addirittura a 52 posti letto. L'altra cosa importante è che all'interno di questo reparto è stata creata in questo momento una struttura di subintensiva, di terapia subintensiva. Quindi in questo momento Cov4 è strutturato come un grande reparto, dal cui interno c'è un reparto Cov3 che è affidato alle cure dei colleghi pneumologi. Una delle mission delle Cov4 è costituita dal conseguimento di un alto turnover di accettazione di missioni. Tutti i pazienti stabili e con necessità di ossigenoterapia possono essere trasferiti in una delle strutture disponibili nella regione Marche. In caso di dimissione a domicilio, i pazienti devono essere svezzati dall'ossigenoterapia e rimanere in area ambiente per almeno 24 ore prima della dimissione. Questi non sono pazienti intubati o legati a macchine che li aiutano a respirare. Quindi i numeri sono estremamente alti, è un ritmo di lavoro che è estremamente faticoso. Dal marzo 2020 a marzo adesso i numeri del nostro reparto sono stati circa 600-650 pazienti ricoverati e dimessi.